Era in pensione dal 1 settembre, l'ultima vittima sul lavoro. Filippo Ciancimino, operaio di 63 anni, è morto lavorando alla ristrutturazione di una casa di Belmonte Mezzagno nel Palermitano. I calcinacci sono ancora lì, gli sono caduti addosso mentre da solo abbatteva un solaio nella parte posteriore dell'abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, sono arrivati i vigili del fuoco e il 118, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Era sposato e aveva due figli, da pochi giorni era diventato nonno. Di Filippo Ciancimino ho il ricordo di un grande lavoratore che l'unica passione che aveva era il lavoro, di una persona per bene, di animo gentile. E ancora una volta Belmonte purtroppo piange uno dei migliori uomini della propria comunità. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e le eventuali irregolarità del cantiere. Il corpo è stato portato nel reparto di medicina legale all'ospedale Cervello di Palermo. Ahimè un'altra volta come sindaco devo dichiarare il lutto cittadino per un lavoratore che dava le proprie braccia per la propria terra. I sindacati sono sul piede di guerra. La Cisli, indignata per l'ennesima vittima, chiede più controlli, mentre la CGL parla di un'ecatombe che nessuno sta provando a fermare.